Siamo qui a Padova con Gianni Boetto di LDL Cobas, oggi il secondo showbrio della logistica, perché questa è la seconda giornata e come si svilupperà nelle due giornate. Siamo qua in via Inghilterra, è chiaro che noi oggi abbiamo puntato prevalentemente a intervenire su alcuni dei corrieri principali, questa è la strada dove è presente Bartolini, Artoni, TNT, GLS, DHL e quindi crediamo che sia fondamentale dopo lo sciopero del 22 marzo di cercare di affondare di più la lama su quelle che sono le ferite già aperte di alcuni corrieri in particolar modo, perché ci interessa cercare di aprire un confronto specialmente con loro. Crediamo che dopo la serata di oggi, la giornata di domani, che vedrà in molte altre città una grossa partecipazione allo sciopero, crediamo che ci siano le condizioni per arrivare a ottenere dei risultati concreti per quanto riguarda la questione rinnovo del contratto nazionale.